Luca Caracresti Siamo una squadra pericolosa quando muoviamo tanto la palla Quando ci intestardiamo poi contro una zona e sistematicamente raddoppiati non troviamo spazio Abbiamo buttato via molti palloni, siamo messi in difficoltà da soli effettivamente È complesso la cosa migliore a livello di gioco che hai visto della tua squadra questa sera E invece quella che ti ha lasciato un po' più insoddisfatto Diciamo che quando muoviamo la palla come dicevo siamo pericolosi Quando muoviamo la palla e coinvolgiamo tutti i cinque giocatori in campo Noi abbiamo una squadra con una panchina molto lunga Ho otto giocatori che possono andare in doppia cifra tranquillamente Quando invece qualcuno inizia a intestardirsi a trovare soluzioni personali facciamo fatica Finora comunque è arrivata un'altra vittoria che vi conferma in testa, vi conferma in battute Diciamo che finora la prima parte di stagione è meglio di così e non poteva andare Non c'è dubbio che siamo partiti molto molto bene però l'anno scorso ce lo insegna La stagione si gioca a maggio e magari addirittura a giugno se si arriva a gara 4 o gara 5 Quindi la stagione è molto lunga, dobbiamo lavorare e dobbiamo recuperare anche Marco Pedrotti Che finora non ha giocato perché si è fatto male a settembre E vediamo di arrivare, l'importante è arrivare al meglio sia come fisicamente sia come gioco a fine stagione Luca, sentite un po' addosso la pressione di essere i favoriti quest'anno? Eh beh, certo, stare davanti un po' di pressione c'è anche perché chiunque gioca contro di noi non ha niente da perdere Vuol solo far bene, mentre noi essere davanti a volte sentiamo questa pressione Infatti abbiamo giocato anche delle partite sotto tono, molto sotto tono Ci è andata anche bene qualche volta come a Bressanone dove abbiamo vinto all'ultimo secondo E non c'è dubbio che c'è la pressione, devo dire che però ci siamo abituati Visto che anche l'anno scorso eravamo sempre lì in cima e siamo a pergine Un tuo giudizio complessivo invece di quello che è stato finora questo cambiato di Serie D Un po' sul livello medio che si è visto e un po' sul turnover, se c'è spazio per i giovani Beh, devo dire che secondo me quest'anno si è alzato il livello medio delle squadre Tutte le squadre si sono rafforzate e quindi le partite sono molto più combattute Anche le squadre di bassa classifica comunque stanno esprimendo un buon basket E anche contro il loro è sempre difficile Sia contro il Villazzano, noi abbiamo fatto fatica Anche contro i piani è un buon gruppo Infatti ha vinto l'ultima partita contro l'Europa Quindi bisogna giocarsi tutte le partite, molto più dell'anno scorso In un campionato così lungo, con due fasi, playoff eccetera Cosa che alla fine diventa determinante? Secondo me diventa determinante arrivare fisicamente a posto a fine anno Stiamo cercando di fare anche un lavoro fisico per arrivare meglio preparati Rispetto alla scorsa stagione a fine anno Anche perché abbiamo comunque in squadra qualche senior Che magari risente di un po' di acciacchi durante l'anno L'importante quindi è arrivare fisicamente secondo me a posto a fine dell'anno Anche perché le ultime partite si gioca ogni 3-4 giorni Quindi se non si è fisicamente a posto si fa fatica Grazie Grazie